L'avanzata verso Mosul è soddisfacente, ma la resistenza jihadista significativa. Mentre i Peshmerga stringono da nord, puntando sulla strategica bascica, a commentare così la progressione dal sud, è il più alto comandante in grado statunitense in Iraq, Peter Townsend. Ancora più ottimiste le forze irachene che avanzano sul villaggio di Safira, a una trentina di chilometri da Mosul. L'Isil si sta sgretolando, dice il responsabile delle operazioni. Il loro morale è ormai sotto le scarpe, lo si può leggere sui loro volti. Per loro questa credo che sia la fine. Astringere Mosul da nord-est è intanto la progressione dei Peshmerga sulla città di Baschica. Diversi villaggi riconquistati e l'interruzione di un'importante arteria di approvvigionamento jihadista fanno parlare il comando statunitense di importante successo, ma sull'avanzata pesa allo strappo della Turchia. All'indomani appena del no di Baghdad a un suo coinvolgimento militare, Ankara ha fatto sapere, per mezzo del suo primo ministro, di essere intervenuta dalla sua vicina base di addestramento in risposta ad una richiesta di aiuto degli stessi Peshmerga. Peshmerga.